Per Tashen Jazz Covers di Joachim Paolo e Julius Weidman. Questo libro in inglese è una carrellata della storia delle copertine dei dischi jazz. È diviso in capitoli, si procede per anni. All'inizio troviamo le interviste con personaggi famosi del mondo del jazz e poi inizia questa galoppata fantastica di copertina in copertina. Adesso non ne sto trovando una, ecco qua, vedete? Di copertina in copertina viene raccontata tutta la storia del jazz negli anni d'oro fino a quando poi si è abbandonata la produzione massiccia di vinili. L'autore infatti, Joachim Paolo, è il direttore di varie emittenti radiofoniche portoghesi e pensate che già dall'età di 15 anni lui aveva iniziato a collezionare vinili e dischi. Il che significa che adesso lui possiede una collezione di 25.000 vinili e quindi questo libro attinge proprio alla sua collezione. È interessante oltre che dal punto di vista ovviamente musicale ma anche dal punto di vista della comunicazione e del design perché così si vede come nel corso del tempo la maniera di comunicare attraverso la copertina il contenuto sì del disco ma anche andare a solleticare, a stuzzicare l'interesse dei possibili acquirenti è cambiato appunto nel tempo. Jazz Covers è un compendio completo di tutto quello che è stato pubblicato nel mondo del jazz come dicevo dagli anni 40 in avanti. Jazz Covers per Tashens un'antologia completa del mondo del jazz.